Salve a tutti, uocikebari, è tardissimo, questo lo so, ma è uscito il trailer di Five Nights at Freddy's Security Breach, sto facendo il mio primo video con la webcam. Io vi dico subito, non so, devo ancora un po' pensarci se fare un video con la webcam, però è uscito il trailer, quindi vediamo un po' di che si tratta, ok? Oh, c'è Venni? Glamrock chica che cammina? Sta mangiando qualcosa ragazzi, non so. Questo è Andy Unity, lo sentite, vero? Oh, che è successo? Regà? Oddio, è stata spiaccicata. Oh my god, quanto è grande! Oh, la guardia ha gli occhi gialli! Ok, questo è Sunrise. Ok, Barili. Oh. Venni, quanto mi piace. Oh. Ok, vai nei bani. Oh. Entri dentro Glamrock Freddy. E lo controlli pure. C'è l'ufficio! Sì! Le telecamere! Oh my god, Montgomery, dove? Ma che cacchio è? Sì! 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 music man come Roxanne Wolf cos'è una discarica di immondizia quanto è bello lui e c'ha pure un las Freddy Fazbear non si chiama Glamrock Freddy ecco venni quando esce questo gioco quando esce quando 16 dicembre 2021 allora analizziamo attentamente quello che abbiamo visto mi dispiace se forse la mia webcam è un po' al buio ma è la prima volta che faccio un video con la webcam notiamo subito ragazzi qua adesso abbasso il volume che qua Glamrock Chica mangia qualcosa non so cosa cos'è che mangia esattamente poi vabbè ti attacca e viene distrutta questo l'abbiamo capito guardate prize qua va veloce quindi non si vede benissimo wow aspetta 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 perchè mi sembra che qua c'è scritto lchips perchè mi sembra che c'è scritto lchip qua lchip c'è scritto lchips lchip poi ok qua abbiamo ologrammi giganti c'è c'è freddy c'è freddy avete visto c'è freddy e qua ai lati ci sono questi altri dei dipendenti robot ecco la guardiana avete visto ragazzi che la guardiana ha gli occhi gialli come sarà visto nel quarto episodio si di freddy on tour ma vi ricordo ragazzi che la guardiana aveva gli occhi verdi nel primo trailer ok questo è sunrise beh il sole che poi dopo cade e diventa moon ok con un comando possiamo far alzare cioè fare del rumore con questi barili per attirare l'attenzione a animatronics a un certo punto una voce diceva cerca di non creare troppa confusione di non farti scoprire qualcosa del genere venni ecco visto stesso luogo stesso posto però adesso c'è lui fantastico ragazzi fantastico veramente e qua vedete che si entra praticamente freddy lo comandi da dentro infatti minca quanto bello è però ho notato ragazzi ho notato che c'è la batteria c'è la batteria ragazzi poi l'ufficio ok questo è interessante ragazzi camera mappa missioni missioni ragazzi e messaggi non ho capito bene questa che sta guardando qua è la guardiana oppure Gregory elpi perché c'è un elpi spaziale lì scusate l'ho notato adesso c'è elpi qua c'è montgomery una specie di montagna russa praticamente montgomery vuole sfondare la porta infatti come sarà visto qui vedete che appunto non ti fanno uscire fuori e qua abbiamo cazzo musicman alle cuffie allora in ucn se tu facevi troppo rumore musicman ti uccideva però adesso che musicman c'ha le cuffie come fa a sentire i rumori quindi questo è un po' strano sinceramente aspetta ragazzi l'ho notato questo qui che sto indicando è Theodore è il coniglietto del libro perché c'è lì perché lì che succede ok qua guarda quanto sono belli qua madonna ok qui praticamente sta c'è una polaroid questa di freddy che tu flashi a roxanne e lei si blocca si ferma letteralmente proprio ok qua c'è l'imbondizia non ho bene capito cosa sia ok mongomerigator e avete visto usa un si un cannone spara laser non mi dite ok non è che allora in un altro trailer ce l'ha visto una specie di boss dove facevi il laser game non mi direi che mongomeri ha un boss da sconfiggere vero hai visto freddy fetzberg non è glam rock freddy è freddy fetzberg detected ok 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 qua minchia ragazzi qua c'è venni che saltella e fa robe però ragazzi appunto qua appunto venni ci saluta e appaiono questi questi specie di puppet inquietanti molto inquietanti ci hanno pure dei bavaglini con scritto qualcosa ragazzi ed esce il 16 dicembre ragazzi ok gente direi di concludere qua questo video con questo momento del bel trailer devo dire ragazzi io vi giuro dopo le prime immagini dopo le prime rivelazioni dopo i primi due trailer dopo freddy in tour è uscito questo data ufficiale 16 dicembre 2021 manca pochissimo l'uscita ditemi nei commenti cosa ne pensate e questo è tutto ragazzi e non c'è la prossima ciao ciao per caso vi aspettavate io che cadevo dalla sedia nah non c'è